Al via da oggi la ventunesima edizione di Linea d'Ombra Festival Culture Giovani che per otto giorni proporrà proiezioni, incontri ed altri momenti di approfondimento sul cinema e la cultura con spazi per la musica, la scrittura, street art e performing art. Un'edizione che ha vissuto un'anteprima nella Sala Pasolini che con l'Agustè ospiterà il festival dedicata alla nuova legge regionale sul cinema. Abbiamo raddoppiato rispetto all'anno precedente con otto giorni di programma circa 60 eventi, grossomodo 120 ospiti. Ci siamo dati un po' da fare questa edizione, molto molto ricca. Partiamo dal sabato 5 novembre fino al sabato 12 novembre alla Sala Pasolini e al Teatro Agusteo con una sala K, abbiamo inventato una sala inesistente che dal 6 sarà esistente e poi con tante programmazioni tra cinema, musica, performing art e anche l'esterno della Sala Pasolini. In apertura faremo un videomapping sulla facciata della Sala Pasolini e un concerto sulla Renile di Santa Teresa. Un'edizione 2016 che coincide con l'approvazione della nuova legge nazionale sul cinema che segue di pochi giorni quella regionale della Campania è al centro di un dibattito al quale ha preso parte anche il presidente dell'Aggiunta De Luca. C'è stata una lunghissima consultazione da parte degli assessori della regione Campania della Presidenza e degli uffici di Presidenza con il Clark che è un comitato dei lavoratori della regione Campania e degli audiovisivi che ha fatto praticamente da supporter a tutta quanta l'iniziativa con risultati, devo dire, particolarmente brillanti. La seconda cosa importante è che questa legge è una legge di sistema. C'è una legge che non guarda soltanto a singoli aspetti ma cerca di guardare a tutto l'arco della produzione dalla produzione alla distribuzione dal sostegno ai lungometraggi, cortometraggi, documentari ecc. Quindi in realtà è una legge che recepisce le istanze di base della regione Campania, degli autori, dei registri e dei produttori della regione Campania.